Io lo dico perché non ci sto ad essere preso in giro sotto questo profilo. Riteniamo che sia completamente inutile una nuova perizia sulle capacità cognitive perché non so a quale risultato oggi si potrebbe giungere. Riteniamo che non sia assolutamente necessaria una perizia sulla imputabilità, sulla capacità di indendere e di volere, che è il concetto di nozione completamente diverso da quella evidenziata sinora perché non c'è nessun tipo di elemento che possa indurre ad una valutazione che metta in discussione la capacità del diputato di rendersi conto di quello che sta facendo.